Prendono avvio oggi le elezioni per poco più di 5 milioni e mezzo di studenti italiani. Si parte infatti nelle regioni del centro nord, mentre al sud il rientro è posticipato al 22 o 24 settembre, a seconda di quanto deciso dalle singole regioni. L'elenco dei problemi ancora irrisolti è lungo ed è sostanzialmente uguale a quello delle settimane precedenti, quindi poco è cambiato. Molti dubbi ci sono ancora sui trasporti, poche certezze sugli spazi aggiuntivi. In proposito va rilevato che non si parla assolutamente più di fare scuola nei musei, nei teatri, nelle biblioteche, idea che è stata ormai abbandonata perché palesemente impraticabile. Come testimoniano anche le immagini realizzate dalla nostra redazione proprio nella mattinata odierna, permangono criticità importanti nell'accesso alle scuole con code di studenti e genitori davanti ai cancelli e ai portoni. Criticità che però potrebbero cessare o almeno diminuire di molto già dai prossimi giorni. Ma il problema più complesso da risolvere appare quello della presenza a scuola dei docenti necessari per gestire le classi. Le immissioni in ruolo sono andate, come sappiamo, degli 85.000 posti autorizzati ne sono stati coperti non più di 30.000. Le difficoltà maggiori si segnalano per il sostegno e per le province del nord. Da oggi i dirigenti scolastici devono mettersi al lavoro per cercare di coprire le cattedre rimaste scoperte utilizzando docenti non di ruolo. Ma anche questa sarà una operazione complicatissima perché le nuove graduatorie provinciali sono zeppe di errori e toccherà alle singole scuole effettuare il controllo sul servizio e sui titoli dichiarati dai docenti in graduatoria con i quali viene sottoscritto il contratto a tempo determinato. Intanto negli ultimi giorni non sono mancate le prese di posizione di associazioni professionali e le dichiarazioni di esperti che parlano della necessità di attivare un vero e proprio protocollo pedagogico, come testimoniano anche le interviste che abbiamo raccolto dal presidente di Proteo Dario Missaglia e dall'ex dirigente tecnico Raffaele Iosa. Nella giornata di domenica intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato un videomessaggio a tutti gli studenti, a tutti gli operatori scolastici, sottolineando l'impegno dell'intero governo per la riapertura della scuola. Impegno che è stato ribadito in serata dalla stessa ministra Lucia Zolina, intervenuta in diretta in una trasmissione televisiva. Ovviamente non sono mancate, non mancano le polemiche, soprattutto da parte di chi sottolinea che dopo tutte queste belle parole, gli insegnanti e il personale della scuola si aspettano anche qualche passo in avanti significativo in materia di rinnovo del contratto di lavoro, scaduto ormai da due anni. Adesso comunque si inizia per qualche ora, i docenti e tutto il personale scolastico sono impegnati ad accogliere gli alunni e almeno per oggi le polemiche forse sono sospese. questo è il tema del giorno, quindi noi continueremo a tenervi informati sia su questo canale sia nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it per cui continuate a seguirci, mandateci i vostri interventi, i vostri commenti, noi come al solito ne daremo conto. Grazie a tutti.